machine pistol mp40 fucile semi automatico replica ovviamente del famoso machine pistol libera vendita libera detenzione libero porto libero trasporto la parte anteriore occlusa trattasi di arma inerte armabile ma non emette alcun rumore né si può caricare con alcun tipo di proiettile caricatore estraibile come l'originale calcio abattibile apribile come l'originale passante per tracolla diotra di mira interamente in metallo parte dell'impugnatura in plastica nera riproduzione pressoché perfetta costruita in spagna per tracolla di potente